yuki a tutti ragazzi ben ritrovati sul canale oggi ragazzi voglio aprire con voi un prodotto molto particolare ma prima di tutto vi ricordo come sempre che qua sotto in descrizione potete trovare il link di twitch quindi ragazzi se volete supportare questo canale oltre l'iscrizione anche la sub su twitch molto ben accetta cioè se sarebbe una cosa buona e giusta vero detto questo passiamo all'opening così vi faccio vedere di cosa sto parlando il prodotto in questione è lo structure deck macchine respingitrici so che è aperto però non cagate il cazzo in cartoleria lo avevano così si tratta di uno structure deck uscito il 13 aprile 2017 ben cinque anni fa e il giorno del mio compleanno vi giuro ragazzi che l'ho appena scoperto incredibile questo mazzo ovviamente introduceva i nuovi supporti ingranaggio antico e aveva una ristampa molto particolare si tratta dell'ultima reprint di max c ovviamente nella sua versione common detto questo andiamo ad aprirlo e vediamo tutto quello che contiene so che aprendolo perderò il valore di questo prodotto ma sinceramente ce ne sono ancora tante in circolazione e non me ne frega un cazzo fondamentalmente allora probabilmente poi è stato risigillato e qua dentro non ci sarà neanche lo structure ma va bene allora andiamo a vedere abbiamo il libretto delle istruzioni con le varie combo ovviamente non è come adesso che viene stampato nel retro del play map una volta c'era il libretto a parte ovviamente non lo andremo a leggere perché non me ne frega un cazzo eccolo eccolo il santo graal delle entrap io ancora sogno un suo ritorno e intanto mi procuro i max c secret mi sembra giusto poi vediamo il play map ok nel retro abbiamo altre combo e pubblicità alle nuove espansioni mi sembra passata una vita dalla print di questa carta che cosa bella e davanti abbiamo il cazzutissimo drago che devo ammetterlo qua è veramente bellissimo va bene mettiamolo via allora tiriamo fuori il mazzo no allora lo structure sembra intatto e sigillato allora andiamo a vedere cosa c'è dentro abbiamo congegno ingranaggio antico andiamo a vedere anche cosa fa almeno così ci facciamo un'idea di quali erano i nuovi supporti che all'epoca venivano inseriti allora se questa carta viene evocata normalmente o specialmente puoi dichiarare un tipo di carta mostro magia trappola in questo turno se un mostro che controlli attacca le carte magia attrappola gli effetti dei mostri quello che è stato dichiarato dal tuo avversario non possono essere attivati fino alla fine della dommage step una volta per turno puoi dichiarare il nome della carta di un mostro congegno fino alla end phase il nome di questa carta diventa quel nome vabbè niente di particolare poi abbiamo come seconda cosa che non capisco la cover card si tratta di drago respingi ingranaggio antico se questa carta è stata evocata tramite tributo offrendo come tributo un mostro ingranaggio antico attacca un mostro in posizione di difesa infliggi danno da combattimento perforante al tuo avversario se questa carta è stata evocata tramite tributo offrendo come tributo un mostro congegno essa può effettuare un secondo attacco durante gli battle phase se questa carta attacca le carte magia trappola e gli effetti dei mostri del tuo avversario non possono essere attivati fino alla fine della dommage step alla fine della dommage step se questa carta ha attaccato può distruggere una carta magia e trappa sul terreno carina questa poi abbiamo idra ingranaggio antico allora l'effetto dice alla fine della dommage step quando questa carta è stata evocata tramite tributo offrendo come tributo un mostro ingranaggio antico combatte con un mostro dell'avversario ma il mostro dell'avversario non è stato istrutto dalla battaglia poi bandire quel mostro dell'avversario se questa carta è stata evocata tramite tributo offrendo come tributo un mosto congegno questa può attaccare tutti i mostri controllati il tuo avversario una volta ciascuno se è un mostroוע agente ago che controlli e attacca le carte magia e trappola gli effetti di mosso e l'avversario non possono essere attivati fino al fine della dommage step poi abbiamo viverne ingranaggio antico se questa carta viene evocata normalmente o specialmente puoi aggiungere una carta ingranaggio antico dal deck alla mano eccetto Viverna. Inoltre non puoi posizionare carte per il resto di questo turno. Puoi utilizzare questo effetto di Viverna ingranaggio antico una sola volta per turno. Se questa carta attacca i mostri del tuo avversario non possono attivare i loro effetti fino alla fine della damage step. Già questa è più interessante come carta e poi è molto bellina a livello di artwork. Poi abbiamo catapulta ingranaggio antico. Credo sia l'ultimo supporto. Mentre non controlli nessun mostro scegli come bersaglio una carta scoperta che controlli. Distruggila e se lo fai evoca specialmente un mostro ingranaggio antico dal tuo deck ignorando le sue condizioni di vocazione. Puoi bandire questa carta dal tuo cimitero. Poi scegliere come bersaglio una carta scoperta che controlli. Distruggila e se lo fai evoca specialmente un segno ingranaggio antico tipo macchina terra livello 1 attacco 0 difesa 0. Puoi utilizzare solo un effetto di catapulta una sola volta per turno. Boh ti dirò attivi spacchi una carta sul tuo terreno e evochi qualsiasi cosa. Da i mostri che abbiamo visto prima a un golem ingranaggio antico così randomico. Poi abbiamo drago gaji il trono ingranaggio antico il golem ovviamente. La chimera che è la versione vecchia di quella che abbiamo visto prima. La bestia che la oppure ultimità è incredibile. Poi ingegnere ingranaggio antico, cavaliere ingranaggio antico, soldato ingranaggio antico. Questa che ne ho comprate tre copie da giocare in infinitrack macchina train. Bene. Ah quindi me ne dava più copie. Molto bene considerando che poi me ne servivano solo. Poi abbiamo ingranaggia nauger, ricognitore planetario, scava campo minato, truppa della carta, truppa della carta. Praticamente tutte carte che mettevano per riempire gli structure. Questa cosa la fanno anche adesso. Ok. Carta che non ha senso neanche questa. E questa è bellissima. L'odore dei maxici vintage. Quanto è bello. Adesso vi faccio vedere ragazzi a quanto sta questa cazzo di carta. Ragazzi ne vogliamo parlare? Una common che sta a 9,50€. Il primo playset NM sta a 12,50€. Cioè non so se mi spiego. La gente a ogni banned aumenta il prezzo perché crede che torni e non torna mai. Ma vabbè andiamo avanti se non piango. Poi abbiamo la fortezza ingranaggio antico, il castello ingranaggio antico, laboratorio ingranaggio antico, città degli ingranaggi. Ragazzi stavo pensando a maxici fuori banned, scusate. Pseudo spazio, rimozione di limite, duplicazione delle macchine. No ragazzi io non ce la faccio. È più forte di me. Max C... Max C A1 significherebbe stoppare le giocate avversarie. Oppure perde perché ho pescato tutto il mazzo. Poi abbiamo ciclone galattico, altra reprint ottima per l'epoca. Poi adesso diciamo c'ha altre stampe. Terraforming. Anfora dell'Avarizio. Anche questa era carina, sempre per l'epoca. Dispetto degli ignomi che dovrebbe essere salita di prezzo. Re delle macchine 3000. Catena nemmoniaca. Mi richiamo anche questo buonina. La grande rivoluzione è finita. E il token che anche questo è simpatico. È bello. È un cazzo di bullone. È bellissimo. Adesso ragazzi voglio farvi vedere indicativamente quanto costano le carte per farvi capire che si tratta di un prodotto ottimo. Perché vabbè, a parte Max C che sta uno sproposito. Questa magia di merda sta a 3,70€ eh. Ma 4 praticamente. Solo perché c'ha monostampa. Poi abbiamo la Viverna che anche questa sta sull'Euro. Molestissimo per una carta super da strutture. Poi abbiamo Ancient Gear che sta sui 50-60 centesimi e basta. Mentre per quanto riguarda il prodotto ancora è a un prezzo più che ottimale. Quindi se volete recuperarlo questo è il momento giusto. Anche per metterlo in collezione visto che si tratta di un prodotto di 5 anni fa. Comunque se volete comprarlo per aprirlo l'ho trovata a 18€. Diciamo se lo volete bello mi sa dovete già pagarlo una trentina. Il mio era aperto sfondato quindi non aveva neanche senso tenerlo. Detto questo vi ringrazio per aver seguito questo video e per aver fatto insieme a me questo salto indietro nel tempo di 5 anni su un prodotto che nel pratico io non avevo mai aperto. Vi ricordo nuovamente che qua sotto in descrizione potete trovare tutti i miei social per seguirmi come sempre ovunque. Detto questo noi ci rivediamo prossimamente sempre qua con un nuovo video. Ciao a tutti!